Con deliberazione di giunta numero 59 2022 si è approvata la relazione preliminare contenente le linee di indirizzo per la predisposizione e realizzazione del PEBA, Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. L'eliminazione delle barriere architettoniche è un diritto del cittadino sancito dalla Costituzione. Sono da considerarsi vere e proprie condizioni negative dell'habitat dell'uomo, infatti le barriere architettoniche sono tutte quelle realtà ambientali che possono creare impedimenti al libero movimento e alla partecipazione alla vita sociale di ogni cittadino. Tale piano strategico va oltre la progettazione per il superamento delle barriere architettoniche per l'accessibilità degli spazi e degli edifici pubblici, l'integrazione sociale, la sicurezza, la qualità di vita e la mobilità di tutti i cittadini. Esso diviene promotore di una cultura di inclusione per rendere il territorio più accogliente, amichevole ed inclusivo. L'ideazione, la progettazione e la realizzazione ex novo di strutture ed edifici nonché la modifica degli esistenti per la totale fruibilità a tutti i cittadini, risulta essere la soluzione per poter eliminare le barriere architettoniche. L'obiettivo dell'amministrazione di Castellabate è quello di garantire l'accessibilità e la fruibilità di tutti gli spazi ai cittadini in modo che tutti possano essere partecipi della vita cittadina, culturale e sociale del paese. Il PEBA è il primo grande passo verso una Castellabate più accessibile, dichiara il sindaco Marco Rizzo. Tale piano è perfettamente in linea con i progetti a supporto delle politiche per le pari opportunità. Bisogna essere portavoce e promotori di una cultura che miri sempre di più all'inclusione, con azioni finalizzate al coinvolgimento di tutti e non indirizzate solo a persone con disabilità, afferma l'assessore delegato alle pari opportunità Mariana Carbutti.